buon inizio di settimana buon inizio di settimana siamo in macchina siamo tornati un po alle origini ragazzi siamo tornati un po alle origini ovviamente addosso ho sempre il mio carissimo giubbotto di rappresentanza ma probabilmente questa fiorentina forse un se lo meriterebbe comunque ragazzi stamattina mi sono alzato con una canzone in testa che faceva più o meno così fate ridere fate ridere fate ridere fate ridere ma italiano non è d'accordo italiano non è d'accordo perché dice non è giusto è esagerato è ingiusto questo coro fate ridere ma io ragazzi gli do ragione perché noi non si fa ridere noi si fa piangere questa realtà dei fatti perché a questo punto c'è solo una soluzione una sola che nel campionato la fiorentina ha smesso di provarci ha smesso di giocare secondo me la società avrà detto ragazzi un facciamoci male in campionato tanto di andare su e un si va su perché quegli altri ci hanno molta più voglia molta più benzina di noi e probabilmente ci hanno anche la davanti qualche cosina in più perché poi la cosa mi fa girare le balle stamattina ragazzi è una innanzitutto seguiti gli amici di space vola qua sotto il link in descrizione seguiti anche me ragazzi mister viola la cosa mi fa ancora di più imbestialire è che qualche giorno fa si è chiuso il calcio mercato della fiorentina no con pradecchi ha detto non abbiamo mai cercato una punta siamo contenti di ovic e cabral bisogna aver fiducia poi prima mi va l'allenatore in conferenza stampa e mi dice la differenza con le altre è là davanti allora fatemi capire bene ma in questo mese che o nel periodo in cui c'è stato in nazionale in mondiale ma che aveva fatto ma aveva chiacchierato aveva giocato a briscola le riunioni che aveva fatto aveva giocato sette e mezzo ma come una società che mi può un portavoce come daniele predè mi viene a dire non abbiamo mai cercato la punta perché va bene con jovic e cabral vuol dire che con l'allenatore c'è stato una cosa di intenti del tipo ragazzi non mi prendete una punta puntiamo su jovic e cabral proviamoci poi quest'altro mi viene a dire là davanti siamo peggio degli altri perché questa poi allora allora non c'è ragazzi allora non c'è sinergia e cioè allora vuol dire che qui l'allenatore ieri ha nuovamente attaccato la società per non aver preso una punta perché ragazzi come venire a dire che se l'allenatore gli compra una terza punta dice no come faccio tre punte sarebbe stato contento e invece no ieri jovic un tiro in porta ribattuto un tiro in porta in tutta la partita cabral è entrata fa sportellate il bologna che ha fatto una partita normalissima nel secondo tempo no anche nel primo le andavo vicino a fa 3 4 gol te a parte lo squillo con saponara che per il gesto atletico avrebbe meritato il gol ne ha fatto più nulla andata e ritorno stesso risultato per la stessa squadra il derby dell'appennino quest'anno è a tinte del bologna meritatamente però ragazzi io non sono arrabbiato perché ieri si è perso perché io ragazzi io sul campionato ormai ho capito che la fiorentina ma in generale questa è una squadra che ha solo stimoli quando deve giocare contro le grandi squadre con le piccole non gliene frega più niente non c'è vera per me e poi italiano ha risbagliato la formazione ma io sono convinto che italiano non studi l'avversario perché ragazzi a parte ci sarà difesa ragazzi che è un colabrodo il primo calcio d'angolo che si piglia noi si piglia go cioè noi su palle da fermo si piglia go sfissi non c'è versi non c'è versi ragazzi però si è dimostrato ieri il bologna che senza arnautovic aveva sto ragazzo zirkec come cazzo che ragazzi a me non fa movimenti da punta ieri si è visto che basta saper fare la prima punta per far salire una squadra per farla girare noi si gioca con due mezze punte che insieme non ne fanno comunque una fate ridere no si fa piangere si fa piangere cioè adesso c'è la juve io non c'ho stimoli di vedere la juve cioè vi rendete conto io sto io ormai con la testa sto già alla conference league io con la testa sto già alla coppa italia perché del campionato ormai non me ne frega più niente cioè tu di domenica pomeriggio alle ore 18 con uno stadio a 30.000 spettatori a tinte viola tu mi devi vincere e non ci deve essere partita e non ci deve essere partita ieri l'ennesima partita squallida di questa squadra che tiene la palla come se si giochasse a melina non si gioca a melina con la palla chi la tiene di più vince non si gioca veloce cioè il calcio è fatto uno due tre tocchi scarico uno due tre tocchi scarico uno due trocchi scarico do la posizione al mio compagno uno due triangolo vado indietro provo uno scatto provo un lancio lungo no melina vai con la melina la melina te la darei io una melina mamma non faccia accidenti comunque sul campionato ragazzi possiamo farci una croce sopra ma attenzione bambini perché chi pensa che la fiorentina sia già in finale dai retta a me ha visto un film alla radio e a colori perché la fiorentina non è già in finale coppa italia perché la cremonese ha dimostrato che in campionato ci creda un po anche loro e punteranno tutto sulla coppa e questo hanno fatto fuori napoli e roma non sottovalutiamo la cremonese e in conference league non pensate le cinque papine prese dai braga il fatto che abbiamo comunque ceduto alcuni giocatori sia facile per noi perché in europa e corron tutti e la grande squadra la grande squadra si vede che mette la stesso impegno su tutte le partite che sia il poggibonsi o che sia il real madrid da affrontare la stessa verba la stessa attività agonistica e noi non ci sa questo questa è la realtà dei fatti ragazzi questa realtà dei fatti siamo inchiodati in quel dodicesimo posto a sette lunghezze a sei lunghezze ma non le guardo più cioè a me mi venia a dire c'è la juve ora è importante no per la fiorentina per firenze a batterla juventus io non ho stimoli per vedere sta partita non ce l'ho perché tanto anche se si vince ma ci siamo qui a dire ah vedi con le grandi si vince così fa la bella partita poi ti tocca ferrentina lecce e tu ne pigli quattro e allora che me ne frega di andare a vincere la juve per soddisfazione personale per soddisfazione da provinciale per battere la juve ieri baracco non ha girato buonaventura non ha girato ma per forza non è della mia idea cioè che si fa adesso si aspetta sempre che giri in tutti no si deve fare una formazione in base all'avversario cioè per quanto ieri saponara si sia salvato ma rallenta la manovra è inutile raccontare rallenta la manovra e non puoi con un bologna che ha due esterni veloci mettemi uno e mi rallenta la manovra non puoi non puoi io io invito i giocatori a farsi un esamino di coscienza perché io sinceramente guarda io io penso che firenze sia una una città in cui vuole la chiarezza cioè se uno se uno mi va in conferenza tra pesce signori il campionato l'abbiamo compromesso quindi ve lo diciamo subito cercheremo di onorarlo al meglio possibile però noi puntiamo la coppa italia la conference quindi in campionato gioca per qualcuno per far rifiatare la formazione di dolare mi giocano gli altri va bene l'accetto allora vuol dire che io invece magari di dire aspetta vediamo se riesco a arrivare a casa vedrà o può fare la mia moglie può fare a cena o la mia moglie mi guardo la una delle mie puntate della serie tv preferita mi guardo un bel film vuoi fare con gli amici un perdo tempo a vedere la fiorentina perché se in campionata devo vedere sto scempio e lascio fare ieri ero al lavoro ho visto gli highlights la cronaca testuale e ho letto un po di interviste saponare a doccia fredda doccia fredda ci siamo lavate a secco con la spugna di ferro ieri altro che doccia fredda comunque ragazzi a posto così davvero a posto così non so che altro dirvi buon inizio settimana ragazzi buon lunedì va bene così che cosa vi devo dire ciao forza viola